In campo, il Renate va a gonfie vele. Nove punti nelle prime quattro partite che costituiscono già un indizio sulle possibili ambizioni della truppa di Cevoli, attrezzata per andare oltre la solita salvezza. Intanto, su richiesta del giocatore, si sta allenando con la squadra nerazzurra Giovanni Fietta. Il centrocampista 32enne è uno dei nomi più interessanti nella lista degli svincolati. Grande esperienza, dal 2008 ad oggi ha vestito le maglie di Cremonese e Como, e nel suo curriculum ci sono anche 62 presenze in serie B. Ora è senza squadra, e attende di sposare un nuovo progetto. Ha iniziato ad allenarsi il 6 agosto con il Lignano, squadra di eccellenza, e da una settimana, sta proseguendo la preparazione con il Renate. Difficile pensare a un tesseramento nella giovane Rosa Brianzola.